Artigiano in fiera, siamo allo stand, il padiglione in realtà della Sardegna, siamo con Prendas de Marganai, coltivazione biologica per un paio di chicche, niente male. Sì, buongiorno, sono Mario Sarrizzo, fondatore di Prendas de Marganai, è un'azienda che sta a Iglesias, sotto il monte Marganai, il significato del nome della mia azienda è i gioielli di Marganai. Gioielli perché coltivo lo zafferano, lo zafferano è la spezia più preziosa al mondo, che utilizzo sia in maniera tradizionale, creo i vasetti con gli stimi di zafferano, e poi ho creato dei prodotti trasformati come il liquore di zafferano mida, un liquore giallo-oro, il colore ricorda l'oro di remida, ha un sapore molto intenso, molto aromatico, si pesta benissimo sia come digestivo che in micelazione. Novità di quest'anno di artigiano in fiera è il liquore di peperoncino abanero, il nostro abanito, lo stiamo presentando qua e sta avendo un ottimo successo. Altre coltivazioni sono il farro, da cui faccio la pasta integrale di farro, nei formati della tradizione sarda, fregola e malloredus, e poi altri prodotti trasformati dallo zafferano, sono le caramelle di zafferano, le nostre zafferanelle sempre col marchio bio, i cioccolatini con la ganache allo zafferano.